Un libro per ricordare tre giorni topici di quel 43. Bene, io posso dire che intanto nel 43 avevo 13 anni e sono stato testimone diretto di questi avvenimenti, ma a parte questo io ho avuto l'onore di conoscere il tenente Alfredo Ferri che partecipò attivamente alla difesa con i suoi bersaglieri quando gli americani sbarcarono e lui era posizionato con la sua compagnia a quota 90 del fiume Naro. Per dire soltanto come fu streno la difesa, posso citare soltanto un fatto, la compagnia era composta di circa 100 uomini, alla fine della battaglia il tenente Ferri consegnò agli americani 36 piastrine di riconoscimento, cioè su 100 uomini della compagnia 36 erano caduti sul campo. E quindi questo dimostra la violenza dello scontro e la strenuità e l'eroismo di questi bersaglieri che sacrificarono la loro vita per difendere la patria. Una giornata importante in cui si ricorda il bombardamento di Agrigento del 43 e il ruolo dei bersaglieri e perché avete voluto ricordare questo momento? Perché? Perché io e anche altri cittadini agrigendini e i miei collaboratori ci siamo resi conto che questo avvenimento, sia il bombardamento, sia lo sbarco degli alleati e le relative battaglie che ci sono state, sono cadute nel dimenticatoio, non si dà il giusto risalto a questi eventi bellici. Io pur essendo agrigentino, sempre vissuto da Agrigento, non era a conoscenza del numero dei morti, della distruzione che ha causato questo bombardamento, per cui abbiamo deciso di metterci a disposizione per organizzare questa commemorazione del bombardamento del 12 luglio del 1943. Siamo al 75esimo anniversario, noi già cinque anni fa avevamo ricordato questo fatto perché riteniamo come parco letterario che la nostra città, chi conosce un po' la storia o chi ha avuto dei congiunti, come io, ho avuto il mio omonimo, Barone Bernardo, proprio morto sotto il bombardamento alle sei e mezzo di mattina del 12 luglio del 1943 e come tanti altri hanno avuto congiunti o amici, non possiamo che ricordare questo evento terribile. Quella volta la giornata la chiamavamo quella terribile giornata del 1943. Cosa viene fuori? Qual è la situazione di Agrigento in quel momento e come ha vissuto questo terribile evento? In quel momento Agrigento era come una città di uno stato che è in guerra, soggetta a restrizioni elementari, tesseramento sui viveri e soggetta anche a bombardamenti. Per la verità fino a luglio c'era stato ben poco, poi il 12 luglio del 1943 c'è stato questo bombardamento che ha fatto circa 190 vittime e che ha segnato poi anche il futuro della città dal punto di vista urbanistico ed edilizio perché il patrimonio edilizio cittadino è stato largamente danneggiato.